ma cosa c'è di meglio di un soldato ucraino in un t72 russo rubato che corre per le strade con la musica a palla diciamolo sa di vittoria e poi questo è quello che succede quando un leopard incontra una lada riva sembra una scenetta di mr bean salve a tutti amici e amiche e mettetevi comodi oggi e preparate i popcorn perché anche se qualcuno nei commenti diceva che tanto quest'azione ucraina verrà spazzata via in un giorno invece siamo al settimo giorno e l'ucraina va avanti conquista nuovi villaggi e oggi è penetrata anche a belgorod e così le gloriose colonne russe mostrate in televisione che fine hanno fatto le notizie si susseguono una dietro l'altra e alla fine anche i telegiornali e i giornali nostrani iniziano a dare risalto a questa invasione della russia da parte ucraina e hanno smesso così di passare le veline stupide del cremlino per passare insomma a prime pagine parlando di dirette e cose del genere devo ammettere che quasi mi dispiace per i canali youtube filorussi perché detto fra noi i discorsi che hanno fatto il primo giorno erano imbarazzanti e adesso sia loro che putin come si dice alla romana stanno a rosicà e così spero che questi cambiano strategia o missione e presto altrimenti presto si troveranno senza lavoro ieri avevo cercato di aggiornarvi sulla situazione ma dopo 12 ore di editing e riedizioni dei miei video perché non superavano la monetizzazione ci ho rinunciato e così oggi cercherò di riprendere il discorso di ieri e aggiornarlo alle ultime notizie così insomma per portarmi avanti intanto ho dato un'occhiata anche all'ultimo video di mirko campo chiari bravo mirko per citare qualcuno parabellum rispondi nell'ultimo video mi è piaciuta molto una sua frase che vorrei citare oggi mirko ha detto l'ucraina è l'unico paese al mondo ad avere invaso una potenza nucleare ed è vero questa frase non solo evidenzia un fatto storico senza precedenti ma possiamo anche dire che gli ucraini hanno defini definitivamente dimostrato che minacciare il mondo di una ritorsione nucleare mentre invadi una nazione è solo un bluff un blef scusate da prepotenti e nient'altro e con il seno del poi se questa determinazione ucraina fosse stata capita meglio dall'occidente il sostegno con armi e mezzi e anche unità avrebbe potuto fare più la differenza e oggi non ci sarebbero intere aree urbane ucraine rase al suolo distese infinite di campi minati e un milione quasi di persone fra esercito russo e ucraino e civili che hanno perso la vita in due anni e mezzo ma oltre a questo alla frase di mirko vorrei anche aggiungere che l'ucraina è anche l'unica nazione al mondo ad aver decimato una flotta senza avere una flotta è la prima nazione al mondo ad aver abbattuto elicotteri con droni ed è anche la prima nazione ad aver usato massivamente i droni per la distruzione sistematica di un esercito intero nel video di oggi quindi vedremo di parlare di come si è evoluta la situazione perché ci sono tante notizie da coprire e ne approfitto anche per rispondere a un paio di vostre domande nei commenti la prima cosa da dire è che gli ucraini non si sono fermati non si è ancora raggiunta una situazione di stallo anzi nelle retrovie dell'avanguardia ucraina è ormai chiaro che le posizioni sono state consolidate con l'invio di altre truppe nella regione si parla di circa 6.000 uomini e mezzi e attrezzature sono riusciti così a consolidare le retrovie e a prendersi susca si sono spinti così fino al villaggio di malai a locca spero di averlo detto bene e si sono spinti così fino a bel grod il preludio di questo era già nell'aria perché notizie non confermate continuavano ad arrivare nei giorni precedenti oggi sappiamo che gli ucraini stanno spuntando letteralmente da tutte le parti perché usano efficaci tattiche di guerriglia e disturbo spesso si travestono da russi o usano carri armati russi rubati e così avanzano riuscendo a sabotare le comunicazioni del nemico e mandando letteralmente nel panico esercito russo oggi fra le altre cose c'è stata l'ennesima resa di massa di soldati russi ma su questo ci torneremo insomma la città di susca la prima città il ground zero di questa invasione che ieri tra l'altro era ancora contesa infatti c'erano alcuni quartieri in cui si segnalavano sacche isolate di soldati russi come veniva anche riportato da fonti russe oggi è caduta definitivamente ci sono le immagini fra l'altro dei soldati russi che vengono catturati e ne arrivano sempre di più in questi giorni se dovessi basarmi solo su queste immagini che ho visto posso dire che i soldati russi catturati ricevono cure mediche e cibo è un trattamento decisamente umano probabilmente molto di più di quello che no si aspetterebbero i soldati ucraini catturati poi l'esercito ucraino spinge in tre direzioni diverse come possiamo vedere nord ovest nord e nord est e per quello che sappiamo in tutti e tre questi fronti gli ucraini stanno affrontando gli attacchi dell'aviazione russa e la resistenza da parte russa nelle unità di quei soldati e mezzi che riescono a scampare al martellamento continuo dell'artiglieria ucraina l'impressione che si ha nel guardare le immagini che arrivano dal fronte è che l'ucraina mantiene sempre l'iniziativa e soprattutto ha un'enorme copertura di intelligence di informazioni che arrivano da parte degli operatori dronici e che gli permette di avere una grande consapevolezza situazionale sul campo di battaglia e questo come dire amici è tutto in una guerra l'intelligence poi alleata con le immagini satellitari e delle scansioni radar fa il resto insomma le informazioni sul campo di battaglia sono tutto senza contare poi aerei come il sentri che fa letteralmente ascolto di tutte le comunicazioni strategiche del nemico proprio per questo motivo nelle retrovie ucraine si sta supportando l'operazione logisticamente con l'invio di più unità e mezzi quindi è molto difficile dire fino a quando e quanto le forze ucraine si spingeranno oltre presumibilmente occupare una fetta di territorio di circa 50 chilometri in profondità sarà più che sufficiente per raggiungere il loro obiettivo primario che appunto dobbiamo ricordarlo questo è solo un diversivo diversivo a cui però i russi non si possono sottrarre perché si sta parlando del loro territorio alla fine quindi condivido anche qui l'analisi di mirko campo chiari che questa mossa ucraina è stata brillante e molto probabilmente la stavano preparando da mesi da dando la falsa impressione di accumulare risorse e battaglioni nell'area di vociansk dove l'esercito russo era in difficoltà da mesi ed era anche in quel settore che gli ucraini stavano ottenendo più risultati in termini offensivi e di riconquista per continuare se ricordate le magnifiche colonne russe sulla strada mostrate in televisione come era ovvio la propaganda se la bevano solo i vecchetti seduti in poltrona a mosca davanti alla tv ma all'atto pratico funziona esattamente come un ritorno di fiamma il karma quando si dice no perché come voleva si dimostrare quelle immagini nella televisione russa hanno permesso agli ucraini di geolocalizzare la colonna e tenerne traccia fino all'imboscata finale non vi posso mostrare le immagini ma quello che succede è sempre lo stesso copione una lunga colonna ferma in questa strada dritta che viene martellata dall'ucraina dalla dalle artiglierie ucraine il resto poi degli uomini che si disperdono nei campi viene rintracciato dai droni questo il copione e così è la terza colonna che finisce in questo modo voglio dire no dimostrando per l'ennesima volta la totale disorganizzazione delle forze armate russe un approccio rigido poco poco versatile poco mobile insomma che fino ad oggi ha applicato applicato questi metodi in una guerra offensiva ma quando si tratta di difendere il tuo territorio e quando vuoi ottenere dei risultati immediati e concreti ti si ritorce letteralmente contro mentre parlavo di questo vi mostravo la mappa e ringrazio fra l'altro il canale di denis davidov che ha suggerito proprio questa mappa di mayakovsk come la più aggiornata e attendibile per capire meglio la situazione come possiamo vedere per ogni icona ci sono video geolocalizzati e su molti di questi eventi adesso ci torneremo le iconcine blu sono le azioni i video e i report di fonte ucraina viceversa quelle rosse sono di fonte russa o report di azioni russe possiamo vedere approssimativamente anche la posizione dei reparti ucraini e di quelli russi per farci un'idea semplicemente attivandoli nella colonna a sinistra vi passo il link in descrizione se volete darci un'occhiata anche perché molte delle azioni di cui parlerò oggi non ve le posso mostrare perché youtube non lo permette è chiaro che questi progressi ucraini sono straordinari se pensiamo che sono passati se solo sette giorni ma allo stesso tempo non ci troviamo di fronte a un'avanzata unidirezionale da parte ucraina vuoi per l'esigenza di rinforzare le posizioni vuoi per motivi pratici insomma questa avanzata ha rallentato in ogni caso io non credo e non crede nessuno che l'ucraina voglia raggiungere mosca anche se qualcosa che ha raggiunto mosca c'è stato per la precisione un attacco dronico o missilistico credo ha colpito l'aeroporto di chalskovsky facendo scattare ovviamente tutto il sistema di difesa della città ok questo è successo il 10 spero di avere altre notizie a riguardo questa mattina il 12 alle 7 da fonti russe sembra che putin abbia lasciato il cremlino con il suo elicottero di stato almeno per quello che dobbiamo dire da questo video sempre per restare sulle fonti russe fra ieri e oggi si esprimi esprimevano in questo post di war translated mette insieme alcune fonti russe in cui si parla della situazione sentite un po purtroppo non ci sono ancora buone notizie l'eliminazione di alcuni nemici ucraini a martinovska avvenuta oggi è diventata il nostro unico episodio di successo fino ad oggi sfortunatamente i dati relativi all'ingresso delle forze armate ucraine a macchinovska sono stati confermati ora ci sono dati di controllo oggettivi per questo ciò significa che domani potremo perdere definitivamente susca ma le cattive notizie in questo settore non finiscono qui ci sono anche informazioni secondo cui il nemico è stato visto nel villaggio di irvi inoltre non solo non sono piccoli gruppi ma fanteria con equipaggiamento pesante se è così allora il nemico sta circondando profondamente il nostro gruppo a susca e preparando un trampolino di lancio per il movimento verso sud ed est qui purtroppo non vediamo ancora una formazione di battaglia particolarmente densa da parte nostra e il nemico a molte riserve continuando sempre da fonti russe il moscow times oggi poi non è veramente gentile con putin le elite russe le elite russe percepiscono l'invasione delle forze ucraine come un duro colpo alla reputazione di putin lo sfondamento dell'esercito ucraino nella regione di kursk e la sua avanzata nell'arco di pochi giorni ha lasciato sconcertati alti funzionari governativi e uomini d'affari vicini al cremlino non molto tempo fa la le elite ipotizzavano che putin potesse lanciare operazioni militari nei paesi vicini della nato per conquistare città in estonia per esempio ora la situazione è cambiata e tutte queste persone credono che l'intelligence russa abbia fallito e con essa putin come voleva si dimostrare come si dice no e questo insomma è un segnale piuttosto forte voi che dite andiamo avanti ieri ho accennato che potrebbero esserci disordini nelle file russe voglio dire di defezioni ne abbiamo viste a bizzeffe di soldati russi che si arrendono ma arrivano anche notizie di coscritti che si rifiutano di combattere a kursk avevo beccato questo post l'altro ieri da parte di igor susco era un semplice trafiletto in cui diceva che i comandanti russi si stanno rifiutando di muovere i coscritti nella regione di kursk il giorno dopo però la stessa notizia ma più nel dettaglio viene riportata da anton gerashenko consigliere ed ex viceministro presso il ministero degli affari interni in ucraina nel suo post dice infatti che i comandanti russi si rifiutano di spostare i soldati di leva nelle retrovie dalle retrovie alla regione di kursk sono considerati unità di combattimento secondo i media l'unità composta dai coscritti riceve ordini di battaglia e i loro comandanti si rifiutano di spostarli nelle retrovie non c'è stata alcuna conferma che i coscritti prendano già parte ai combattimenti fra l'altro le famiglie di molti coscritti nella regione di kursk hanno riferito di non riuscire a contattare i loro parenti i soldati al momento una petizione russa per rimuovere i coscritti dalla regione di kursk ha raccolto già circa 3500 firme fra l'altro nel post c'è la foto di nikita dobri 22 anni prima coscritta russa uccisa in direzione di kursk molti altri canali qui su youtube poi fra l'altro parlano come ho detto di grandi defezioni in massa nelle file russe spero che questo sia vero e che soprattutto si verifichi anche a sud perché da quello che si evince da questi due articoli i soldati dislocati a sud non ne vogliono sapere di farsi più di mille chilometri per combattere contro gli ucraini nella regione di kursk e questo in prima battuta potrebbe sembrare strano ma se pensiamo che quei soldati a sud stanno lì da mesi facendo il minimo sopravvivendo in qualche modo in una guerra di logoramento per carità però magari si sono fatti un'idea delle capacità ucraine quindi è chiaro che spostarsi per affrontarli apertamente non è forse un'idea allettante per loro e questa per carità è solo una mia idea ma appunto dovremo aspettare i prossimi giorni per vedere gli sviluppi di questi trasferimenti che ripeto sono a tutti gli effetti il vero obiettivo ucraino se l'ucraina riesce a far mobilitare l'esercito russo da sud verso la regione di kursk potrà ragionare su una controffensiva a sud queste frecce indicherebbero appunto gli spostamenti necessari ai coscritti per intervenire nella regione di kursk oppure come dire c'è un'altra soluzione no la più semplice la russia potrebbe semplicemente andare a casa e magari chissà dare un calcio nel sedere a putin adottare un governo provvisorio e iniziare a ragionare con la nato su come ricostruire l'ucraina e rispondere dei propri crimini di guerra e proprio per questo che ho appena detto il clima presso i vertici militari a mosca è questo poi secondo l'ambasciata di kiev jinping la cina suggerisce che la russia ceda la regione di kursk e inizi a parlare di pace con l'ucraina ora su questa affermazione della cina non sono sicuro che ci sia stata ma io comunque non mi sbilancierei c'è da una parte bisogna riconoscere che la cina sta facendo grandi affari con la russia sotto banco ok in termini di cripto valute o scambi nascosti perché la russia ha bisogno delle tecnologie elettroniche cinesi per continuare a costruire carri aeroplani ed elicotteri dall'altro l'ucraina senza la cina non avrebbe due milioni di droni fpv con cui porta avanti la sua opera di distruzione sistematica di tutto quello che la russia invia al fronte quindi la cina conviene proprio che i due contendenti continuino a farsi la guerra da un punto di vista economico detto papale papale andiamo avanti con altri aggiornamenti in questi due giorni le forze di difesa ucraina con i menpad nell'area di kursk hanno abbattuto un su 34 questo proprio nella regione di kursk dove l'aviazione russa sta cercando di intervenire scusate la solita moto è una moto guzzi fra l'altro il tizio c'ha non c'ha i silenziatori letteralmente devo chiudere tutte le finestre per fare in modo che non si senta comunque la presenza degli stinger è veramente una brutta bestia per i piloti significa non poter volare sotto i 5 mila metri di quota 6 mila per i sistemi stinger più moderni è come dire se non puoi volare basso per fare attacchi al suolo è un problema cioè è pericoloso volare bassi a causa dei missili spalleggiabili devi volare alto però anche questo non è sicuro perché ti esponi così ai missili a lungo raggio missili radar quindi adesso immagino che i generali ucraini dovranno valutare se schierare uno scudo missilistico più consistente nella regione di kursk proprio per evitare le operazioni della vks poi sempre per restare sempre in termini di successi ucraini e sempre per quanto riguarda manpads i missili spalleggiabili hanno distrutto un secondo credo siano tre a questo punto k 52 in poche ore questi elicotteri sono costruiti come l'arma personale di putin sono l'elicottero d'attacco più avanzato che ha la russia letteralmente l'elicottero delle forze speciali del cremlino la perdita di 2 barra 3 k 52 non è cosa da poco sarebbe un po come perdere due euro fighter per l'italia insomma tanta roba la russia nel 2019 aveva 170 di questi elicotteri solo nel primo anno di guerra ne ha persi 60 altri 40 nel 2023 e ad oggi fra usura e danni e quant'altro dovrebbero restarne meno di una sessantina di k 52 operativi ed è stato fra l'altro già riportato altre volte che sono veramente a corto di questi elicotteri oltre ai manpad poi come ho accennato all'inizio del video in tre giorni di operazioni si vedono anche droni colpire gli elicotteri russi un mi 28 e due elicotteri da trasporto mi 8 da trasporto truppe fanno la stessa fine vi mostro queste immagini che non solo mostrano quello che succede ma sono la testimonianza la prima vera testimonianza di come un drone possa colpire un elicottero e questo è successo la prima volta nella storia oltre a questo gli ucraini continuano i loro attacchi alle infrastrutture militari nella regione di rostov sul don e questo è con un incendio che si è sviluppato presso il comando militare locale si segnalano poi violente esplosioni presso l'aeroporto di kursk ma questa è una notizia da confermare quindi vedremo nelle prossime ore e incendi presso la base militare di persianovska sempre nell'area di rostov sul don altra notizia questa di quattro giorni fa anche il magazzino ed oposito militare di pogo refl pogo relovka sempre in profondità in territorio russo per quanto riguarda invece le notizie di oggi da jason smart del kiev post arriva questo video che mostra come le forze ucraine continuano a muoversi nella regione di kursk nonostante il governo russo affermi che la situazione si è stabilizzata ora rispondo a delle domande che mi avete fatto nei commenti uno degli ultimi fra l'altro mi scriveva ciao enrico per quanto riguarda i droni i dispositivi per disturbarne il segnale sono montati su tutti i veicoli teoricamente i segnali di disturbo sulla videocamera quando i droni sono a pochi metri dai mezzi sono a causa di questi disturbatori post scritto sono molto felice di vedere che i tuoi video stanno ricevendo una marea di visualizzazioni e like buona serata carissimo intanto grazie per i complimenti e sì è vero che il mio canale sta crescendo molto soprattutto in termini di visualizzazioni non mi posso montare la testa perché sono ancora all'inizio e sono cinque mesi che ho iniziato quindi devo essere onesto però vedere che negli ultimi tempi sto facendo più visualizzazioni di canali filorussi con oltre 160.000 iscritti di cui non faccio il nome beh per me questo è un enorme risultato mi fa veramente felice ne sono fiero ma questo avviene soprattutto grazie a voi e alle splendide persone che state dimostrando di essere e che mi sostengono per questo sottolineo sempre in ogni video quanto sia importante iscriversi al canale e lasciare un mi piace poi per rispondere alla tua domanda non conosco bene nei dettagli il funzionamento di questi disturbatori se no se non fatto che so che esistono dei modelli portatili che assomigliano a dei fucili oppure fissi con delle antenne posti sui mezzi però non credo che tutti i mezzi li abbiano quello che posso ipotizzare è che lavorino in multifrequenza cercando di sostituirsi alle frequenze in cui operano i radiocomandi ucraini non credo che i disturbi che si vedono siano dovuti se intendi i disturbi nel video i rumori si chiamano in termini tecnici siano dovuti però a questi disturbatori nel senso questo lo dico perché nel 2011 ho montato personalmente è utilizzato un esacottero un grosso drone per fare riprese aeree presumo che i disturbatori nel momento in cui riescono a sostituirsi alla frequenza di controllo del drone semplicemente lo mandano in tilt lo fanno cadere e così dovrebbe anche interrompersi il segnale di controllo intendiamo ma non il segnale video perché il segnale video viene trasferito su un'altra frequenza ci sono due cose diverse il controller dal segnale video cioè nel momento in cui il drone ha una telecamera come per esempio un drone per sovverglianza e ricognizione il flusso video viene trasferito con una sua antenna dedicata su una frequenza dedicata quindi sono due cose diverse per quanto riguarda i disturbi sul video il rumore che si vede nel video questo lo ripeto lo dico basandomi solo sulla mia esperienza personale avendo proprio usato un drone fpv questi disturbi dipendono essenzialmente da disturbi atmosferici e dal raggio d'azione limitato delle antenne che non sono potentissime se si parla di piccoli droni è già tanto parlare di 2,5 chilometri di raggio anche se magari oggi penso che arrivino anche a 5 se non superarli quindi nel momento in cui si avvicinano al limite della loro possibilità iniziano a vedersi questi disturbi questo lo dico sulla base della mia esperienza e poi c'è il discorso degli ostacoli come alberi oggetti la trasmissione avviene in linea retta quindi per esempio il fogliame delle piante o degli alberi i pali della luce qualsiasi cosa può falsaltare provvisoriamente il segnale o creare questi disturbi poi ho detto la mia magari qualcuno nei commenti è più esperto di me e potrà confermare o smentirmi aspettate telefono vediamo sentirlo ok quindi ripeto se sapete di più fatemelo sapere andando avanti invece cambiando argomento dato che in molti mi avete parlato delle armi termobariche nei commenti precedenti ho raccolto qualche informazione allora mettiamo subito le mani avanti questa è mia idea personale è sempre meglio evitare di credere che la russia possegga grandi tecnologie innovative in grado di sbaragliare sbaragliare nazioni che zio vladimiro se vuole libera i mastini e altre assurdità del genere insomma un po di realismo questi ordigni termobarici esistono dagli anni sessanta e non li hanno inventati i russi fra l'altro sono una semplice evoluzione del napalm e infatti furono usati per la prima volta nel vietnam proprio dagli americani l'arma contiene del gas infiammabile che si disperde quando la bomba impatta o il missile e la spoletta secondaria poi lo incendia e così si crea letteralmente una nuvola incendiaria la bomba è definita anche bomba al vuoto vacuum bomb perché quando questa nuvola si incendia sottrae l'ossigeno perché deve consumarlo letteralmente però occhio cioè tutti tutti gli esplosivi in realtà consumano ossigeno voglio dire anche il fuoco da solo consuma ossigeno è normale tra l'altro l'atmosfera riempie subito questo vuoto non è che rimane lì quindi quello che succede è che alla fine è una bomba incendiaria piuttosto potente sicuramente che ha degli effetti devastanti sulle persone però è localizzato cioè dipende dal quantitativo è un'arma particolarmente utile per distruggere tunnel e bunker sotterranee perché infatti questo gas riesce a infilarsi in profondità nelle fessure entrare nelle gallerie infatti fu usata proprio per questo nei tunnel in vietnam e nelle gallerie delle montagne in afghanistan sfatiamo anche altri miti non è vero che è chiamata la mini atomica non ha lo stesso potere distruttivo quella invece è la moab è una la bomba americana gpu 43 che è una bomba convenzionale che però pesa 8,5 tonnellate quindi immaginate un tir così letteralmente una bomba grande così quindi è un pochino più grossa delle tre tonnellate tanto decantate dai russi quasi tre volte tanto è stata soprannominata così perché appunto nella sigla si intende la ma la madre di tutte le bombe convenzionali il botto che fa questa bomba americana è tanto ed è paragonabile se parliamo di potenza esplosiva in termini di tnt alla più piccola arma tattica nucleare americana cioè quella lanciabile con un cannone di artiglieria per intenderci più potente di questa bomba americana c'è solo la bomba maradona ok ora in questi giorni sono circolate delle comunicazioni da parte del ministero della difesa russa che ovviamente ne ha sparate tante voglio dire è attendibile quanto pinocchio secondo cui un missile termobarico ha colpito una base di mercenari a sud di susca nella regione di kursk ok uccidendo 15 di questi e basta non dice nient'altro fonte del ministero della difesa ovviamente i filo russi e molte testate giornalistiche nazionali italiane amano le notizie sintetiche no perché ci puoi fare mille ricamini voglio dire e poi senza mai controllare le fonti ovviamente come per esempio questo tizio subito sempre su x che pubblica questa foto e dice ecco i missili che i russi usano per la regione di kursk c'è scritto per la regione di kursk perfetto va bene ma non benissimo cioè prima di tutto è una bomba è una bomba planante va bene ok poi c'è scritto per kursk voglio dire è casa tua kursk che discorsi sono ora di questo missile non c'è traccia da nessuna parte non vedo report se parliamo della zona sud di susca in territorio russo nella regione di kursk ho cercato e non ve ne traccia non ci sono altre fonti non si parla di mercenari non si parla di 15 morti non c'è niente di niente le uniche fonti che ho trovato sono due iskander che sono stati lanciati nelle retrovie ucraine quindi in ucraina e hanno colpito delle postazioni antiaeree ve le mostro ma non stiamo parlando di bunker pieni di mercenari l'unica cosa che potrebbe somigliarli se dovessi basarmi sul video quello che ho visto e questo report di un attacco aereo russo ma questo è avvenuto molto più a sud della regione di kursk in ucraina proprio in pieno territorio ucraino dove si vedono delle bombe fab convenzionali colpire quello che sembra un complesso di edifici di villeggiatura presso un lago che ci fossero dei mercenari lì possibile non lo escludo ma che queste bombe fossero termobariche possibile ma il cremlino ha parlato di un missile comunque cioè se devo basarmi sulla fonte del cremlino è un missile quindi io non l'ho visto quindi se voi trovate altre informazioni fatemi sapere che dire è questa bomba termobarica è qualcosa di nuovo e rivoluzionaria no perché sono due anni e mezzo che la russia usa queste armi sporche dato che poi fra l'altro missili e bombe non sono molto precisi da parte loro cosa c'è di meglio della classica artiglieria in stile catiuscia però più moderna e con decine di piccoli razzi equipaggiati con queste cariche termobariche no sarebbero perfette infatti due anni e mezzo che le usano in questa immagine vi mostro un tos 01 fotografato esattamente il 24 febbraio del 2022 primo giorno dell'invasione dell'ucraina quindi lo hanno usato tante volte è pieno di video in cui usano questo sistema contro le posizioni ucraine contro le città si vedono voglio dire è tutto alla luce del sole perché viene ripreso dai droni di sorveglianza quindi con queste armi ma anche con altre voglio dire perché le fab plananti sono molto diverse la russia ha letteralmente e sistematicamente raso al suolo intere aree urbane in ucraina in questo fotogramma di questo video che non posso mostrarvi per esempio si vede chassi fiare queste sono le città che la russia vuole liberare cioè da cosa vuole liberare dai calcinacci ora uno direbbe ok sono città sul confine dove si combatte ok ma kiev non è sul confine e viene bombardata allo stesso modo due giorni fa un missile di fabbricazione della corea del nord un kn 23 ha ucciso un bambino di quattro anni insieme a suo padre colpendo una casa ed è curioso notare come il ministro per i diritti umani in russia si lamenta due giorni fa si lamentava che l'onu non denuncia il terrorismo ucraino nella regione di kursk non ho parole voglio dire no c'è poco non c'è molto altro da aggiungere quindi è abbastanza normale che il mondo civile si sia schierato con l'ucraina in questi due anni e mezzo ed è solo per colpa del suo arsenale nucleare che la russia non è stata arata voglio dire il cremino non è diventato il ground zero come si dice quindi pensate a questo quando leggete i giornali italiani infatti ve li mostro perché appunto due giorni fa tre giorni fa nelle testate giornalistiche italiane non si l'errore che hanno fatto è che non hanno percepito l'importanza di questa azione ucraina in territorio russo e oggi stanno cercando di recuperare infatti ci sono i titoloni infatti tre giorni fa le testate giornalistiche italiane che cosa facevano copiavano le veline del cremlino questo per esempio è l'avvenire ve lo faccio leggere che poi dice chiamata la mini atomica è l'arma convenzionale più potente mosca l'ha impiegata altre volte dall'inizio della guerra in situazioni critiche ma l'esercito cerca di tranquillizzare a posto stiamo freschi in situazioni critiche dice cioè invadere le città ucraine e ararle al suolo sono situazioni critiche secondo l'avvenire poi vabbè lasciamo perdere sul fatto che la descrive come una mini atomica ok fra l'altro l'articolo il trafiletto continua perché no un missile balistico tattico iskander ha scagliato l'ordigno termobarico nella periferia meridionale di susca dove gli ucraini della ventiduesima brigata meccanizzata avevano allestito un sito di dispiegamento temporaneo 15 mercenari stranieri sono stati neutralizzati vi ricordate quando parlavo di ghirigori di aggiungere parole no su un trafiletto di velina del cremlino esattamente poi andiamo avanti russia missile termobarico sui mercenari di chiev 10 agosto la russia ha risposto all'offensiva ucrina nella regione di kursk colpendo con un missile termobarico i mercenari stranieri alla periferia meridionale della città di susca secondo il ministero nell'attacco effettuato dall'esercito russo sono morti 15 mercenari stranieri non c'è nessuno che verifica le fonti in questi giornali ovviamente perché nessuno si chiede come fa un pilota russo di mig 35 che lancia un iskander a verificare che ci sono 15 soldati uccisi cioè chi è che ha contrato ha contato le vittime un drone chi c'era se susca è stata completamente conquistata dagli ucraini chi è che ha confermato questi decessi c'è capite che non ci sono corrispondenze e in questi due giorni non ne sono arrivate non che io sappia almeno ripeto poi posso sbagliarmi comunque faccio notare come cambia la versione di questa notizia se ci spostiamo fuori dall'italia e prendiamo per esempio la cbs americana che dice il ministero della difesa russo ha affermato che i combattimenti continuano nella regione di kursk e che l'esercito ha condotto attacchi aerei contro le forze ucraine compreso l'uso di una bomba termobarica che provoca un'onda d'urto e crea un vuoto che soffoca i suoi obiettivi quindi notato la differenza non si parla di vittime e secondo voi perché perché la cbs americana e non vuole dire che ci sono state vittime o perché non è una notizia confermata no facciamoci due conti facciamo un po di usiamo un po la logica e poi vabbè repubblica che oggi oggi non la cito proprio perché l'ho aperta per un momento l'ho chiusa subito ma tipo due giorni fa li batte tutti voglio dire no leggete non commento anzi sì secondo secondo la punteggiatura la bomba causa uno stato d'emergenza in tre regioni e poi mille soldati ucraini uccisi mille e poi potrei andare avanti no chi manca non so il fatto quotidiano vabbè lasciamo perdere questi sono i progetti che ho raccolto lo stile è sempre quello voglio dire c'è una faziosità c'è un po il desiderio di dimostrare chissà che cosa dimostrare che la russia è qualcosa che non è non capisco sinceramente non seguo la stampa italiana non seguo la televisione non lo faccio da 25 anni provate un consiglio che vi do per chi non lo fa già e provate ad astenervi per una settimana e poi tornate e ditemi voi provate a seguire altre notizie e poi date un'occhiata alle televisioni italiane comunque ripeto sono passati sette giorni da questa operazione speciale ucraina per denazificare la russia e non ho ancora trovato una singola conferma di questi 15 mercenari colpiti da questo ordigno magari sono scarso io quindi se trovate conferme fatemelo sapere comunque per concludere e non lasciarci con la mara in bocca due meme prima di lasciarci signor presidente il cremlino è stato liberato la crimea avevo detto la crimea e poi c'è questa che in realtà non è una meme ma è spettacolare mi ha fatto letteralmente piegare in due c'è belusov che dovrebbe essere il ministro della guerra in ucraina è la più alta carica dello stato dopo putin ma lo abbiamo detto altre volte è stato appena letto eletto alla fine lui poverino è solo un burocrate c'è tipo è un contabile non ha nessuna esperienza operativa nessuna esperienza militare e non se lo caga nessuno è solo proprio un burocrate nel trafiletto si dice negli ultimi due giorni il ministro della guerra russo belusov ha provato a chiamare tre volte il capo del pentagono americano austin ma quello non alza la cornetta magnifico e con questo è tutto per oggi spero di aggiornarvi anche domani come sempre fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate un abbraccio alla prossima